Ti sei mai chiesto se con il tuo drone DJI puoi creare da un video che hai girato a bordo drone un modello tridimensionale con il software Agisoft Metashape? Sei nel posto giusto? Io sono Gabriele Mura, un esperto di Agisoft Metashape Pro e in questo video ti mostrerò appunto questo procedimento. L'obiettivo è quindi convertire il video in immagini JPEG e poi processarle col software Agisoft Metashape per fare una ricostruzione fotogrammetrica. Prima di iniziare però ti chiedo di lasciare un like al video e soprattutto di iscriverti al canale. Iniziamo vado su file mi sposto su import e seleziono import video. Da questa finestra posso selezionare appunto il mio video dalla directory in questo caso utilizzo un video che ho scaricato da Pixabay il noto sito che mette a disposizione sia immagini che video diciamo senza copyright. Quindi faccio clicco su apri per aprire il video. Ci sono diverse opzioni come vedete il file di destinazione e poi clicco su seleziona cartella per selezionarla qua sotto. Il file template indica come sarà nominato il singolo fotogramma che viene estratto quindi sarà un suffisso frame dopodiché ci saranno i numeri quindi frame 01 02 03 eccetera eccetera. Dopodiché possiamo selezionare da frame step la l'opzione large e poi eventualmente posso selezionare sia l'inizio che la fine per quanto riguarda l'importazione delle foto. Questo solitamente viene utilizzato se c'è nel video se presente nel video la fase ad esempio di del collo del drone quando ancora non è in quota per iniziare a eseguire il rilevo fotografico ma non è questo il caso come vedete qua è già in quota quindi clicco su ok per procedere per importare le fotografie si avvierà appunto un processo di elaborazione che serve appunto per importare le immagini dal video. Metto un attimo in pausa il video benissimo il caricamento è terminato quindi sono state importate 47 immagini. Ora per procedere andiamo su workflow e seleziono line photos e da questa finestra posso selezionare qualità alte di ricostruzione e nella finestra che riguarda i tip points inserisco il valore di 4000. Faccio clic quindi sul tasto ok per proseguire e si avvierà un nuovo caricamento. Stendiamo anche in questo caso qualche minuto fino al termine appunto della procedura di ricostruzione della nube sparsa. Questo è il risultato della nube sparsa vediamo cos'è venuto fuori quindi questa è la torre diciamo che è stata ricostruita c'è un po' di disturbo attorno appunto all'oggetto che è stato appena ricostruito probabilmente c'è stato qualche errore durante il processo di ricostruzione. Controlliamo dunque le immagini vediamo che le prime sono ok però poi vediamo che c'è un errore quindi c'è stato qualche problema nell'importazione dei fotogrammi. Dunque proviamo a ripetere l'operazione di importazione appunto delle fotografie quindi ripetiamo un'altra volta il procedimento e vado appunto a selezionare il video. Seleziono la cartella di destinazione come abbiamo fatto prima e imposto appunto in questo caso il valore custom. Allora questo valore mi consente di decidere ogni quanti fotogrammi estrapolare un'immagine. Se faccio clic con il tasto destro sul video posso visualizzare le proprietà del video. All'interno dei dettagli c'è scritto appunto quella che è la frame rate ovvero la frequenza dei fotogrammi. Vedete 29,97 quindi posso decidere ad esempio di estrapolare un fotogramma ogni 30 ad esempio e di cliccare sul tasto ok. Bisogna dunque attendere il caricamento. In questo caso l'immagine che vado ad estrapolare dovrebbero essere sicuramente più statiche rispetto a quelle che abbiamo visto poc'anzi. Cosa cambia? Che ogni 30 secondi cambia il fotogramma dunque cambia l'inquadratura. Dunque nel nostro caso non dovremmo capitare con delle fotografie che appunto non sono chiare. Infatti vedete che in questo caso è avvenuto appunto è avvenuta l'importazione corretta a differenza di prima. In questo caso tutte le foto sono state importate correttamente. Dunque chiudiamo la nostra anteprima e possiamo procedere con l'allineamento delle foto come stiamo facendo. Vado su workflow, seleziono l'opzione line photos, i valori vanno bene così, clicco su ok per avviare il caricamento. Attendiamo qualche istante. In questo caso come potrei vedere il risultato è completamente diverso e abbiamo effettivamente tutte le facce della nostra torre che sono state appunto mappate come vedete correttamente a differenza di prima che avevamo solamente tre facce su quattro. Possiamo dunque procedere nella nostra ricostruzione lasciando tutto com'è senza neanche stare a fare delle pulizie eccessive per vedere appunto l'efficacia del dello strumento build point cloud. Quindi vado a creare adesso la nuvola di punti che in passato si chiamava nube densa. Adesso si chiama point cloud. Dunque cosa ci interessa? Lasciare impostato l'opzione calcola i punti colorati e calcola appunto la confidenza. Clicco dunque sul tasto ok per avviare il caricamento e anche in questo caso attendo che il processo finisca. Anche questa fase ha avuto termine. Dunque adesso non mi rimane che cliccare in alto su questa icona che riguarda appunto la point cloud. E come vedrai incredibilmente è stato ricostruito perfettamente. In questo caso abbiamo una visualizzazione che riguarda soltanto le mesh. Come faccio quindi a vedere la visualizzazione con i colori che ho creato. Vado a cliccare sulla freccetta a fianco e seleziono point cloud colors. Come vedrai adesso sarà tutto molto più chiaro. Questa opzione è diventata sensazionale perché come vedi è stato eliminato con l'algoritmo tutto lo sporco del disturbo che aveva la nube attorno alla torre. Vedi qua in alto che c'erano tanti punti che non erano corretti. Dunque direttamente con la creazione della point cloud è stato ricostruito perfettamente come puoi vedere la torre che appunto ci interessava. Vado dunque su workflow e seleziono build mesh. Da questa impostazione posso impostare appunto l'assorgente. Nel nostro caso non è la t points ma è la point cloud che abbiamo appena calcolato. Possiamo selezionare eventualmente il numero di punti, il numero di poligoni che andrò ad utilizzare. 690 mila sono davvero pochi quindi magari ti consiglio di usare uno o due milioni almeno. su due milioni in questo caso. Interpolazione va bene così e calcola appunto il colore dei vertici. Clicco dunque sul tasto ok. Proviamo a ricostruire con la point cloud e vediamo cosa viene fuori. Nel caso mai confrontiamo il risultato. Mettiamo un attimo in pausa il video. Molto bene il procedimento è stato ultimato con successo. Posso cliccare quindi in alto su questa icona di piramide per vedere la visualizzazione del modello solido. La ricostruzione del modello solido è stata molto accurata e rispetta appunto quella che è stata la nube densa ovvero la point cloud che abbiamo utilizzato come sorgente. Posso utilizzare anche altre viste volendo ad esempio la vista wireframe oppure quella della confidenza dove tutto sommato abbiamo un'alta confidenza. Vediamo il colore celeste come colore predominante quindi abbiamo un'alta precisione in questo caso. Quindi ci fa bene sperare. Dunque questa è la vista invece con la diciamo colorata senza le texture. Dunque non ci rimane che calcolare che far calcolare al software la texture finale. Per questo vado su workflow clicco build texture. In questo caso posso sempre decidere il tipo di texture che voglio creare. Mappa diffusa oppure occlusion map. Occlusion map diciamo una mappa diciamo bianca ombreggiata praticamente una specie di solid con con le ombre. Sorgente cosa utilizzo le immagini o il modello 3d. Noi vogliamo creare una texture fotorealistica quindi non può essere una foto che è un come dire una mappa che non usa le fotografie quindi che non si rifà le fotografie e quindi alla realtà. Dunque assolutamente utilizzo immagini. Mapping mode. Seleziono naturalmente l'opzione generic che tiene conto appunto di tutte le fotografie che vengono combinate insieme. Il modo di fusione mosaico naturalmente. Tutte le altre non ci interessano. E il tipo di texture. Lascio invariato il valore di 8k. Dopodiché con la texture vuoi completare diciamo le aree buie diciamo dove dove la texture non agisce ok. Se ci sono mossi vuoi sistemarli quindi se c'è l'effetto ghosting ok anche in questo caso. Dunque per completare l'operazione clicco sul tasto ok. Intanto metto un attimo in pausa il video. Molto bene il procedimento si è concluso correttamente. Dunque non mi rimane che cliccare nella visualizzazione appunto del modello e di selezionare la texture map. Attendo qualche istante e visualizzo quella che è la texture che ho appena ricostruito dalle fotografie. Questa texture la posso personalizzare nelle tonalità di colore andando su tools e utilizzando lo strumento set brightness. Quindi posso cliccare su estimate per fare una stima dei colori. Dopodiché faccio clic sul tasto apply. Attendo qualche istante per impostare i colori il più possibile diciamo fedele con quelle che sono state appunto le fotografie. Questa è la fine del video. Spero che ti sia piaciuto. Se hai trovato il video utile iscriviti al canale e ci vediamo per il prossimo video. Grazie, ciao.